Dottoressa Bonsignore, noi l'abbiamo chiamata per commentare insieme a lei quello che è successo, non certo sul piano clinico, l'accertata positività di un diciottenne al covid, ma per una riflessione di ordine generale che scaturisce anche dal dibattito che si è aperto. Il secondo caso di un diciottenne, una ragazza proveniente dalla Croazia, un altro proveniente da Malta. Il dibattito rileva dal punto di vista dell'opportunità di questi ragazzi che sono andati in vacanza fuori dall'Italia, in piena pandemia. Qual è la sua riflessione anche sul fatto che adesso stanno venendo fuori giudizi piuttosto impietosi sui genitori, su loro stessi? Qual è la sua opinione? La mia opinione riguardo in generale il giudizio sul comportamento dei giovani, una cosa che ho rilevato nell'ultimo periodo, che è sui social, perché ovviamente, specialmente dopo il lockdown, ma anche prima e anche adesso, i social sono un importante luogo di, si sperava, di incontro, di scambio di comunicazioni, di confronto, anche scambio di idee. In realtà, nell'ultimo periodo, specialmente da quando c'è questa grande paura che si aggiunge alle altre, appunto del covid, i social sono diventati un luogo invece dove gli odiatori, gli haters, come li chiamano in inglese, si stanno facendo sempre più vivi. Quindi, diciamo che c'è un continuo vomito di situazioni, di insulti, di frasi provocatorie. La prima cosa, io noto, che si fa, attenzione, questo succede quando magari c'è anche un atto di vandalismo, oppure la dottoressa che si ammala, o una donna che ricopre un incarico, non lo fa bene, o anche un uomo, attenzione, ma quando qualcuno è in vista e sbaglia, tra virgolette, diciamo così, per renderlo semplice, la prima cosa che si fa in maniera molto non mediata, ecco, è quella di insultare, di aggredire e di trovare un colpevole. Questo è il problema di trovare il colpevole. Ultimamente, rispetto al comportamento dei giovani, si additano sempre i genitori. I genitori vengono subito tacciati come persone che non sanno fare più genitori, che non ci sono più quelli di una volta, che non danno più la classica sberla, perché poi questo è quello che si legge. In realtà, poi, diciamo, questo è un fenomeno, non è che è una cosa tipicamente nostra, ma è un fenomeno, tant'è vero che negli ultimi anni si è studiato un po' in tutta Europa, in tutto il mondo, questo fenomeno del late speech, si chiama proprio così, cioè il linguaggio di odio, gli odiatori seriali, i odiatori sociali, addirittura c'è stato un giornalista, un giovane giornalista norvegese che ha fatto uno studio longitudinale, quindi ha fatto anche un documentario molto interessante che si intitola Internet Warriors, i guerrieri di internet, che questo signore è andato a cercare poi tutte queste persone, che alla fine sono persone normali, per bene, che magari hanno una famiglia. Su Facebook escono al naturale. Io quello che credo è che nelle situazioni di emergenza si accelerano i processi, per cui noi ci siamo ritrovati adesso in questa situazione, che comunque c'era anche prima, appunto in una situazione in cui utilizziamo Internet per tutto, per studiare, per lavorare, per comunicare. I contatti sono un po' diminuiti, quelli offline, sono aumentati quelli online, e chiaramente la civiltà online, quindi l'educazione online, la netiquette, come si dice, non tutti la conosciamo, perché ovviamente nel messaggio, se io scrivo una frase, o metto un post, chi risponde non è una persona che io conosco bene, è una persona, amici su Facebook, non è la stessa cosa di amici nella realtà. Quindi chiaramente, e poi nel messaggio che si scrive manca tutta una serie di informazioni, mancano tutta una serie di informazioni che invece nella comunicazione vis-à-vis ci sono, per esempio il linguaggio non verbale, i messaggi impliciti, il paraverbale. Quindi si va, si oltrepassa nella misura ancora una volta. Si oltrepassa nella misura e come dire, poi la paura genera questo appunto trovare il colpevole, per cui si comincia a scaricare in questo modo appunto le proprie emozioni negative. Ma lei, come mamma e come psicologa, comunque entrando nel merito, cosa pensa di questo fatto? C'è chi dice che i genitori non sanno più dire di noi figli, il figlio chiede, allora bisogna accordare perché è così che va il mondo. Quella è la sua opinione, è così davvero? Allora, la mia opinione, io ho lavorato tantissimo con i giovani, e devo dire che con chiunque io ne parli, dico sempre che i giovani di oggi a me piacciono tanto. Faccio intanto questa premessa. Ci sono chiaramente dei percorsi che non vanno bene, che ci sono delle negatività che non si riescono ad affrontare, perché alcuni giovani non riescono ad affrontare alcuni compiti di sviluppo. Però il problema non sta tanto nei giovani, ma certamente nelle figure genitoriali, in primis, ma anche nella società, perché non è che dobbiamo pensare che il giovane è soltanto cresciuto dai genitori. Per crescere un giovane ci vuole un villaggio, per crescere un bambino ci vuole un villaggio. Ed è così, non possiamo pensare più di rifarci a dei modelli che andavano bene tanto tempo fa. Non bisogna mai fare questo confronto, bisogna pensare ad oggi. E quali sono i bisogni di oggi? I bisogni cambiano, le situazioni restano uguali. Io penso, per esempio, alle famiglie di una volta, dove c'era una mamma a casa molto spesso, e solo la mamma lavora. E nella mia esperienza posso dire anche che ci sono interi nuclei familiari, dove solo la mamma a lavorare, a fare tutto. Io dico, quando c'è una difficoltà, e c'è la difficoltà, perché nella fase adolescenziale chiaramente il ragazzo deve confrontarsi con questo passaggio dal mondo infantile al mondo adulto e deve anche andare un po' contro, deve mettere un po' in discussione l'adulto, perché è fisiologico, guai se non lo facesse. Ci sarebbe un ragazzo che non evolve, che non si individua, che non va avanti. Ed non è una cosa semplice farlo adesso, proprio perché ci sono bisogni diversi e non ci sono aiuti. Perché io dico, per esempio, se un ragazzo o un bambino ha una difficoltà di qualunque natura, che sia di tipo psicologico, che è significativa, clinicamente è anche significativa, cioè che arriva alla clinica, io mi chiedo, cosa fa? Il problema è che mancano i servizi proposti a questo. La stessa cosa è successa con gli insegnanti a scuola. Qualsiasi cosa non vada bene nella scuola, è colpa degli insegnanti. Ma l'insegnante cosa può fare, avendo una moltitudine di difficoltà, persone con bisogni particolari? Quindi lei sta dicendo che l'errore che si commette è quello di non valutare la complessità del problema, ma di valutare soltanto l'ultimo atto. Esattamente. L'approccio poi verso il disagio deve essere un approccio multidimensionale. Non si può pensare che se un ragazzino sta male, è colpa di, a scuola manifesta un comportamento, allora sono gli insegnanti. Anche verso gli insegnanti c'è stata una grandissima campagna di odio, che ovviamente genera negatività. E poi, e ovviamente, un insegnante non riesce a compiere bene il suo compito importantissimo, perché non essendoci questo atteggiamento di confronto e di dialogo, è di rispecchiamento. Perché io, per esempio, ritornando al discorso degli odiatori, io ricordo sempre una frase che ho letto, che mi ritorna sempre in mente, di Tullio De Mauro. Lui diceva, chi scrive, ed è rivolto soprattutto a voi giornalisti, ma anche a chi scrive sui social. Quando si scrive sui social, si scrive a una moltitudine di persone. E allora, quando noi scriviamo, dobbiamo leggere, prima di postare quella cosa, con gli occhi della persona di cui parliamo. Io penso, chi lo fa questo? Questo presuppone un percorso e un meccanismo di empatia. E si ritorna a parlare di empatia. Io ritorno a parlare sempre del discorso dell'educazione e dei sentimenti. Perché per combattere stereotipi, pregiudizi, che poi sono i prerequisiti della discriminazione, è chiaro che ci vuole questo. Che cosa arriva ai nostri ragazzi? Arriva un mondo adulto intanto frammentato, che dà messaggi molto spesso incoerenti, che dà testimonianze ancora più negative, perché le testimonianze sono importanti in educazione. Non è che è quello che diciamo, è quello che facciamo. E quindi, perché ci stupiamo poi se il ragazzo, il sabato sera, magari beve un po' e poi fa la rissa? Io non mi stupisco, perché è semplicemente un sintomo di un sistema che non va. Le chiedo un'ultima cosa. Questa vicenda del lockdown, del coronavirus, ci ha messi di fronte alla necessità di rispettare le regole. Non soltanto quelle di convivenza civile, ma proprio anche dal punto di vista giuridico. Le regole le abbiamo rispettate. Poi c'è stato questa sorta di allentamento. Adesso ci sono anche i negazionisti, quelli che dicono che la stiamo facendo troppo lunga. Capisco che il tema ci porterebbe molto lontano. Il rispetto delle regole, però, quando è stato imposto, tra virgolette, per quello che stava succedendo, mi pare di poter dire che c'è stato. Quindi c'è stata un'osservanza delle regole. Poi cosa è successo? Cosa succede a un certo punto? Allora, il rispetto delle regole c'è stato perché le regole sono state chiare, le hanno rispettate tutti. Il problema sta quando le regole non sono chiare e soprattutto... Quando cambiano di giorno in giorno. Cambiano di giorno in giorno, soprattutto molti non le rispettano. Allora, molto spesso questo accade su tutto. Adesso il coronavirus... E questo ha alimentato una percezione di allentamento della tensione. Chiaramente. Non sanno nemmeno loro che... Ma chiaramente, ma ci hanno fatto anche molti post umoristici su questo perché se un'ora prima ci dicono un certo tipo di cose, anche dei dati, eccetera, un'ora dopo vengono smentite perché bisogna anche capire che dobbiamo essere bravi anche a capire quale notizia è veritiera, quale notizia non è veritiera. C'è gente che si diverte a scrivere delle cose non vere proprio perché vuole vedere le reazioni degli altri. Quindi, io, ritornando al discorso dei giovani, io ho visto che i giovani durante il lockdown sono stati bravissimi. Almeno nelle nostre zone. Sono stati bravissimi, hanno cercato di rispettare le regole, hanno gestito un periodo molto pesante perché pensiamo agli adolescenti, gli adolescenti che sono stati sempre a casa. Per gli adolescenti è importante avere il gruppo, uscire. Insomma, è normale questo. Anche i bambini, i bambini piccoli. Il discorso è questo. Siamo di fronte a degli interrogativi importanti. O dobbiamo essere completamente sorvegliati e dobbiamo andare verso la sorveglianza totale. E si può fare, perché adesso ci sono anche gli strumenti per farlo che secondo me sono molto pericolosi. O dobbiamo andare verso la coscienza collettiva, la responsabilizzazione del singolo. Ci sono momenti, secondo me, non si può essere estremisti. Bisogna però, in qualche modo, che prima la motivazione al rispetto della regola sia prima di tutto estrinseca e poi intrinseca. Che significa? Se io non ho la regola di buttare la spazzatura per terra, la carta per terra, affinché la regola di buttare la carta per terra la riventi intrinseca, e quindi automaticamente se scarto la caramella la metto in tasca senza neanche pensarci, in automatismo, io dovevo aver avuto la multa. O la multa, o comunque qualcuno che mi abbia guardato male mi abbia detto che stai facendo, no? Se parliamo di bambini. Quindi non è che possiamo pensare, se il governatore ha pensato, i nostri politici hanno pensato che si dovevano aprire le discoteche, ma noi ci abbiamo pensato e chi ci doveva andare in discoteca. Abbiamo autorizzato i nostri ragazzi, perché gliel'hanno detto gli adulti, che potevano andare in discoteca. Adesso un ragazzo si contagia e tutti a scrivere delle cose molto negative. Io dico, quando si scrive questo, si sta pensando che queste parole le leggeranno i genitori del ragazzo, le leggeranno anche gli altri ragazzi che sono molto spaventati. In questo caso è utile? Quanto meno non è utile. Io credo che la solidarietà... Si sta tentando anche... C'è un altro grande interrogativo. Nazionalismo, individualismo nazionalistico o solidarietà? Io penso che la solidarietà e la cooperazione globale è quello verso cui dobbiamo andare. Ma una valutazione sull'opportunità, insomma, che bisogna hanno questi ragazzi di andare per ora in questa fase all'estero? Sì, assolutamente. Questo si può fare senza volere contare il dito. Chiaro, no, no, sono d'accordo. E sempre ritorniamo al discorso di pensare all'altro. Se io genitore, mio figlio mi chiede voglio andare in Croazia. In questo momento io non solo devo pensare al bisogno di mio figlio, devo pensare alle conseguenze che l'azione di mio figlio ha sull'altro. E ritorniamo sempre al discorso del mettersi nei panni dell'altro. La chiave di tutto è questo, l'empatia, il mettersi nei panni dell'altro. Se facessimo questo, non avremmo bisogno neanche di regole. Solo che è difficilissimo da fare, perché noi dobbiamo fare i conti con le emozioni, l'invidia, la gelosia, la paura. E quindi sempre cultura delle emozioni, educazione alle emozioni. Spero che questo prima o poi si capisca e si possa andare verso un'educazione di questo genere. Verso i ragazzi soprattutto. Grazie.